Io sono Luca Comunian, BNP Paribas, insieme oggi andremo a fare quella che è la seconda puntata di questi appuntamenti dove da un lato andiamo a fare un update sui mercati insieme a Milano Finanza, Intelligence Unit e dall'altra parte andiamo invece a curare quelli che sono degli educational sui nostri prodotti. In questa puntata andiamo anche a approfondire delle tematiche un po' più ampie rispetto alla precedente edizione in particolar modo per quanto riguarda i prodotti perché mentre la scorsa volta ci siamo focalizzati solo sui prodotti a leva grazie anche ai vostri feedback e ai vostri interessi che vi abbiamo chiesto e che avete anche poi dopo l'evento risposto veramente in tanti vi ringraziamo per questo. Abbiamo un po' visto che il feedback era sì mi interessa investire a leva sui mercati ma ho anche parecchie esigenze di avere degli investimenti di più lungo periodo, magari non a leva ma mi interesserebbe avere un flusso cedolare mi interesserebbe avere un rendimento interessante e così via. Ecco che quindi noi come emittente BNP Paribas siamo tra gli emittenti più attivi sul mercato e con la gamma di prodotti più ampia perché nell'ambito dei prodotti a leva abbiamo varie soluzioni a partire da leva fissa che diciamo è lo strumento più diffuso anche dagli altri emittenti ma abbiamo Turbo Certificate, abbiamo Mini Future per la copertura di portafogli e mentre nell'ambito dei prodotti di investimento abbiamo varie soluzioni tra cui Bonus Cap, Cash Collect, Autocallable, Atena Certificate e poi oggi avremo anche il piacere di parlarvi di questa collaborazione che abbiamo con la Banca Mondiale dove in esclusiva sul mercato italiano siamo responsabili della distribuzione delle loro obbligazioni e siamo market making sulle loro obbligazioni in valuta. Tutto questo per farvi un po' il cappello introduttivo di quali saranno i nostri argomenti. Vediamo però insieme l'agenda, si partirà ora con Massimo Brambilla che farà un'analisi intermarket in chiave previsionale quindi andremo un po' a vedere qual è il sentiment dei mercati, cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi mesi. Interverrà poi Gianluca Defendi con le strategie operativi di trend following e c'era poi dalle 12 alle 13 una prima sezione Educational Sui Certificate. Alle 13 avremo un lunch break, quindi una pausa pranzo fino alle 2. Ripartiremo ancora una volta con Gianluca Defendi che in questo caso si focalizzerà su analisi di più ampio respiro, quindi di medio termine e la seconda sezione nostra dove parleremo di certificati di investimento e delle obbligazioni della Banca Mondiale. Come l'altra volta vi invitiamo ad essere super interattivi, porre le vostre domande, i vostri quesiti e chiaramente noi proveremo a rispondere al meglio delle nostre possibilità e ancora una volta poi diffonderemo un template di feedback e siate sinceri sia nei complimenti che soprattutto nelle critiche perché appunto questo è un appuntamento che andrà avanti, magari ci fermeremo Isabella prima dell'estate faremo un'altra probabilmente, sì, prima di agosto e poi andremo avanti anche nella seconda metà dell'anno. Quindi l'idea è creare questo ambiente dove si parla di investimenti, si parla di mercati però deve essere una cosa che è un po' fatta da noi, gli argomenti, il focus, il taglio che vogliamo dare lo decidiamo insieme. Io mi fermo qua e passo la parola quindi a Massimo. Grazie mille. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Mi presento per chi l'altra volta non c'era, sono Massimo Brambilla, sono responsabile di Milano Finanza Intelligence Unit la divisione analitica di Milano Finanza Editori che si occupa di svolgere tutte le analisi in chiave previsionale per i media di vari canali di classe e quindi giornali, quindi sito internet, televisione. Facciamo un po' come l'altra volta per capire un po' il pubblico di che stampo è. Quanti di voi sono professionisti nel campo della finanza? Ok, ok. E invece quanti sono interessati esclusivamente al trading? Trading intendo come attività di breve, brevissimo termine. Ok, esclusivamente al trading. E quanti invece esclusivamente all'attività di investment, cioè quella con un orizzonte un po' più ampio? Ok, beh. Siete divisi bene, vedo. Guarda che c'è qualcuno che non ha mai alzato la mano. No, no, ma io fotografo. Vuol dire che c'è qualcuno che fa un po' di trading e un po' di investimenti a medio-lungo termine. Poi guardiamola... E si, esclusivamente perché è chiaro che poi insomma chi fa trading ha anche un portafoglio che ha reddito e viceversa. Sì, anche per il medio-lungo termine. Sì, esatto. Però poi guardiamo le moviole e vediamo, come la domenica sportiva, vediamo gli incroci. Allora, parliamo di previsioni quindi. L'elemento cruciale per l'approccio estivo dei mercati è indubbiamente il ballottaggio francese. L'avevamo già accennato l'altra volta. L'altro evento, Luca, era stato più o meno un mese e mezzo fa, giusto? A marzo. A marzo, sì. L'altra volta eravamo stati ottimisti sui mercati azionari. avevamo anticipato il ritocco della Fed di marzo e più o meno le cose sono andate così. È stato forse un aprile un po' difficoltoso da metà marzo in poi. Però in vista appunto delle elezioni francesi, i mercati si muovono in anticipo, c'è stato un buon recupero. Più che recupero direi che sono stati dei balzi, quelli che si sono verificati, in vista delle elezioni francesi. Quindi, due giorni prima del primo turno all'Eliseo, i mercati continuano il primo balzo. I mercati intendo tutti i mercati, quindi intendo i mercati azionari, i mercati valutari e i mercati bond market. Primo balzo perché hanno scontato un possibile passaggio al secondo turno da parte delle forze europeiste. Così è stato e adesso ci aspetta l'appuntamento di domani. I mercati ancora una volta si sono mossi in anticipo, quindi giovedì hanno compiuto un altro balzo. Anche qui un balzo univoco, nel senso univoco e all'unisono. Quindi mercato azionario, bond market e mercato valutario. Avete visto l'ottima forza dell'euro contro dollaro, che sopra 1,10 e 5 apre altri spazi di rafforzamento dell'euro. E ora bisogna attendere il risultato di domani per la verifica. È un po' quello che abbiamo affrontato anche sul settimanale che avete con voi. Diciamo che il mercato ha scontato il 62% di probabilità, il 62% di voti che dovrebbe avere Macron nella giornata di domani. Quindi in questi due balzi che abbiamo descritto, ha compiuto praticamente gran parte, se non tutto, il movimento che poteva essere compiuto sulla spinta elettorale. Perché l'ha compiuto? Quasi tutto perché il 5% del DAX che ha guadagnato in questo frangente, quindi dal 23 aprile fino ad oggi, e l'8% del Fuzzimib, soprattutto il 13% delle banche di avanzamento è tanta cosa. È tanta cosa perché, come ho scritto, per quanto riguarda il DAX, che è l'indice che ha avanzato di meno, rappresenta praticamente, in termini di PE, rappresenta un terzo della crescita utile di quest'anno. Supponiamo di avere un PE uguale a 15, supponiamo, per il mercato. Se questo più 5% ha portato il PE a 15,75, significa che mettendo lo stesso prezzo per avere lo stesso PE di prima, dobbiamo alzare gli utili per tornare al PE di prima. E da qui possiamo estrapolare qual è stata, in termini di crescita degli utili, l'entità del balzo avvenuto solo grazie alle elezioni. Ci potrà essere un brindisi finale lunedì, in caso di vittoria di Macron, perché è sempre così. Dopodiché io sarei un filo scettico sul fatto di aprire ulteriori posizioni di trading, sto parlando, nella seduta di lunedì. Non mi stupirebbe vedere le mani forti e realizzare parte degli utili sul balzo di lunedì. E che quindi possa portare a una sorta di, magari non di ritracciamento, ma di andamento laterale del mercato per un po' di sedute. È un po' quello che è buy on rumor e sell on news. La filosofia poi è sempre questa. Si tratta di agire in anticipo per poi vendere sulla domanda degli altri, degli ultimi che entrano, credendo che l'esito favorevole, in questo caso delle elezioni francesi, possa inserire un trend che in realtà c'è già stato. Gli utili sono stati rilevanti, quindi è lecito pensare ai realizzi anche da parte degli investitori istituzionali. Se voi pensate che i rendimenti dei mercati obbligazionari sono sì cresciuti un po' rispetto ai minimi di agosto, ma rimangono estremamente bassi, quindi stiamo parlando per la Germania veramente di una schifezza. Cioè parliamo di rendimenti a zero fino ai sette anni di scadenza. Si alzano un po' di più per l'Italia, che fondamentalmente sono simili a quelle degli Stati Uniti. Ma stiamo parlando comunque di pochissima cosa. Quindi l'1% all'anno di rendimento, cioè voi capite che se io realizzo un guadagno del 2% in due settimane sul mercato azionario, grazie, me lo porto a casa. Perché devo esporre in due settimane il 2%, perché esporsi di più a rischio? Attenzione sempre a coniugare rischio e rendimento. Un guadagno acquisito è acquisito quando viene smobilizzato. Finché non viene smobilizzato non è acquisito, è contabilizzato nei nostri budget, ma non è realizzato. Così fanno anche l'investment bank. Per cui finché non è realizzato non è un guadagno acquisito. Quindi perché mettere a rischio un risultato di questo tipo, no? Gettando una sorta di monetina. Perché abbiamo visto, non lo penso solo io, lo pensano anche molti broker, che gran parte del movimento, ho visto anche un report di euro mobiliare giovedì o venerdì, gran parte del movimento a favore di Macron è già stato realizzato dai mercati. Parliamo di mercati azionari, per ora. Viceversa, faccio un'altra domandina. Chi di voi pensa che possa vincere le penne, a sorpresa? Inizia, nessuno? Possa, ho qualche probabilità. No, chi dice, secondo me vincerà le penne. Non vince ma arriva molto vicino. Ok. Sì, se lo dà la 4, le penne a 1,13 Macron. Ok. Sì, 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 no. Perché avvenga ciò, bisognerebbe essere il padre eterno in persona, allora si fa un vero. Sì, vi ricordo sempre, vi ricordo sempre l'esito, non si sente? Sì, 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 sì. Sì, assolutamente comparabile. Solo il padre eterno potrebbe far vincere la retezza. Più che la vittoria di... Pure sconvolgimenti... Un cattivo tempo? No, no. Sì. Ma dovrebbe essere una gana... Pronto, pronto? Ok, così? Perfetto. Allora... Più che la vittoria di Le Pen... Aspetta, 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 mi passo, mi colpo. Prego, se no non sento nel fondo. Più che la vittoria... Più che la vittoria di Le Pen... Anderà a vedere le elezioni il mese prossimo, come vanno? E se Macron come maggioranza parlamentare riesce o non riesce a fare o quanto di qualche resto? Ok, quindi stiamo parlando... Sì, quello non tanto nel frattempo... Certo, domani, lunedì mattina, si saprà chi guiderà all'Eliseo. Dopodiché è importante anche la composizione che ci sarà alle camere nelle elezioni dell'inizio giugno, praticamente. Forse l'8 giugno, qualcosa del genere. In Francia è normale che a distanza di un mese o poco più dall'elezione del Presidente poi venga rieletta una delle due camere, perché l'altra funziona come la proposta di Renzi, cioè vengono presi dalle varie circoscrizioni i personaggi politici e viene in questo modo costituita una delle due camere. L'altra è eletta. Sì, sarà importante la composizione, più che altro perché lì è un po' più difficile acquisire le maggioranze necessarie. E quindi si ragiona sempre in termini di alleanze, no? Anche in Francia è necessario fare questo. Perché in Francia sono spariti i partiti praticamente, no? I partiti tradizionali, certo. Beh, visto il livello di occupazione della Francia e il suo andamento della congiuntura, dell'economia in particolare, questo non mi stupisce. Quindi dicevamo, le penne, nessuno qui da, siamo un centinaio circa, crede che possa vincere le penne. Questo in realtà è quello che credono anche i mercati. Questo era quello che credevano anche a fine settembre, per quanto riguarda lo scontro tra Clinton e Trump. Questo era quello che credevano assolutamente anche nel caso della Brexit. sempre parlando di sondaggi. Quindi diciamo che tutto può accadere, no? La distanza è tanta, ma ricordiamoci che i media compongono sempre, è una componente fondamentale del panorama finanziario, no? I media, di cui io faccio parte, tendono ovviamente a influenzare anche involontariamente l'opinione pubblica, perché magari mettono in risalto determinate cose rispetto ad altre. Io ieri ho visto un, sarà stato un passaggio di un tre minuti, no? Sul, interviste per quanto riguarda la popolazione francese sul voto di domani, il caso era Peugeot. È chiaro che Peugeot è una grande corporation e quindi rientra nella sfera di Macron, no? di quelli, della persona favorevole a Macron. E infatti hanno fatto, per dire, queste devono essere, in questo modo devono essere viste i media, hanno fatto un due minuti e mezzo su quei tre minuti pro Macron e mezzo minuto intervistando l'unica persona che era favorevole a Le Pen. Quindi attenzione anche ai media a come presentano le informazioni e poi possono essere diverse da quello che si verificherà. È successo così negli Stati Uniti ed è successo così con la Brexit. Quindi, prego. L'obiezione mia è la differenza, quella di oggi è decisamente superiore a quella della Brexit. Come distacco? Certo, assolutamente. Si, 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 no, infatti non era su... Sì, io non scarto nessuna ipotesi, no? Per cui vedremo il voto di domani. Certo, e nell'ipotesi, quindi l'ipotesi Macron l'abbiamo vista, no? L'effetto di breve dovrebbe essere quello perché è stato in gran parte scontato sui mercati azionari. Per quanto riguarda l'euro invece e il bond market è un discorso diverso. L'euro con l'eliminazione del rischio francese in realtà trova una maggiore forza, una maggiore consistenza in un'ottica di ampio respiro perché appunto viene rimosso uno dei rischi, anche se non è il principale rischio, che pendeva sulla moneta unica. Il principale rischio, come voi sapete, ma anche da parte degli investitori esteri, soprattutto da parte degli investitori esteri, sono le elezioni italiane, no? Ci considerano il paese più euroscettico, dove gli euroscettici possono arrivare a essere la maggioranza tra i cittadini, parlo di un ipotetico referendum, e quindi considerano le elezioni italiane come l'evento politico più rischioso per l'euro dalla sua nascita, praticamente. Quindi, rimosso il rischio francese, perché in caso di Vittoria di Le Pen l'euroscetticismo italiano troverebbe basi più concrete di farsi avanti nelle elezioni che velocemente ci saranno nel 2018. Quindi, rimosso il rischio francese, l'euro trova spazio, almeno nell'immediato, per potersi portare una volta, c'è una bella resistenza a 1,10,50, per avanzare fino a 1,12, 1,13 anche, proprio per la rimozione di una di queste incertezze, diciamo. Bond market, lo spread si può restringere ulteriormente, può riportarsi verso i valori di marzo, quindi parliamo di 150-160 basis point tra BTP e Bund, proprio perché si innescano vendite sui Bund per innalzare il rendimento e acquisti sui nostri titoli di Stato. Questo cosa comporta? Restringimento dello spread significa forza per le banche, quindi, in questo caso, pur sapendo che magari nel breve termine i mercati azionari hanno pochi spazi per reagire, trovando anche magari qualche spazio di realizzo, in un'ottica un pochino più ampia, e quindi già parliamo di qualche settimana, fino ad arrivare all'estate, inoltrata, la pausa estiva di agosto, le banche, su questa nuova contrazione che ci potrebbe essere dello spread, troverebbero una maggiore forza, una maggiore consistenza per portarsi avanti, per recuperare. Prego. Sull'euro non ritiene che i ultimi valzi sono stati però da 1,7-1,9, e quindi poi abbiamo scontato questa rimozione del territorio francese, che in realtà poi, adesso la ricacenza di quelli di un'età e anche con i dati di sviluppazione, ovviamente sono citi in America, per lì, in realtà, il porto in un altro prendo, è diverso? Avete sentito tutti anche... Sì, ok. Sì, diciamo che, allora, sui mercati azionari giocano delle forze più interne anche ai mercati stessi, no? Come lei dice, sull'euro giocano... L'euro è un rapporto di cambio, no? Quindi è anche in considerazione di cosa fanno gli altri paesi rispetto all'euro. In realtà, in realtà abbiamo assistito a un rafforzamento dell'euro anche prima degli eventi politici, un tendenziale rafforzamento. Cioè, l'euro comunque stava acquisendo forza, o meglio, il dollaro ha perso parte della sua forza, no? Anche il dollar index, quindi nel confronto delle principali valute contro dollaro. Quindi, parlando di euro-dollaro, bisogna tenere presente anche questa componente. Cioè, la componente... Però un secondo... Il dollar index è un indice che sintetizza l'andamento del dollaro rispetto a un paniere di sette valute, mi sembra, le principali valute contro dollaro, no? Perché quando parliamo di euro-dollaro è un rapporto tra euro e dollaro, no? Poi, come minimo, il dollaro si confronta con lo yen, no? In termini di cambio, si confronta con la sterlina, il cosiddetto cable, e con altre principali valute, no? Quindi, sintetizzando l'andamento del dollaro contro il basket delle principali valute contro dollaro, nasce il dollar index, che, insomma, è un indice abbastanza storico negli Stati Uniti, e... che sa... un indice che sale quando il dollaro si rafforza e scende quando il dollaro si deprezza. Quindi, parlando... Un secondo che finisco... Parlando di euro-dollaro, bisogna tenere presente anche le forze che stanno indebolendo il dollaro, no? Noi abbiamo visto quelle che potrebbero rafforzare l'euro, no? Che sono le stesse del mercato azionario. Ma nel cambio euro-dollaro contano anche i fattori di debolezza del dollaro, cioè che arrivano dagli Stati Uniti, no? Cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti sta succedendo una cosa un po' strana, no? Che magari volevo affrontare dopo, ma possiamo affrontare subito. Sta succedendo che la curva dei rendimenti si sta appiattendo degli Stati Uniti, no? Cioè, diventa... Dal 13 marzo a oggi è traslata verso il basso la curva dei rendimenti. Quindi da una conformazione di questo tipo adesso è una conformazione con tassi a breve più alti perché è comunque la Fed alzato di un quarto di punto, no? E tassi a medio e lungo termine più bassi rispetto a metà marzo, no? La ripidità, tra l'altro, non è eccessiva. Voi sapete che dalla conformazione della curva dei rendimenti si traggono delle considerazioni importanti per quanto riguarda le aspettative dell'economia di un paese, no? Allora, una curva ripida significa che c'è tanta differenza tra i tassi a breve e i tassi a lungo termine. Cioè, i tassi a lungo termine sono di due punti, due punti e mezzo, anche tre punti più alti rispetto ai tassi a breve, no? Quindi questa è una curva ripida accompagna un'economia aspettativa di espansione di un'economia, no? Perché un'economia in espansione la banca centrale sta sotto per cercare di non far esplodere l'inflazione quindi i tassi a breve tendono a muoversi a rialzo ma anche quelli a lungo termine proprio perché le aspettative di inflazione salgono quando sale l'aspettativa di crescita dell'economia, ok? Quello che invece è successo da metà marzo a oggi è un appiattimento di questa curva, no? E negli Stati Uniti il dibattito è molto acceso perché? Perché accompagna un'economia in contrazione non un'economia in espansione e qui la domanda quindi un'economia in contrazione porta a una debolezza per rispondere alla domanda che mi è appena stata fatta del dollaro in questo caso parte a una debolezza sia in termini di scambi commerciali ma soprattutto perché è un'economia che non è così in espansione come si crede parlando degli Stati Uniti porta la Fed a togliere il piede dall'accelerazione nel rialzo dei tassi e quindi toglie parte dell'appealing dei depositi in dollari rafforzando, indebolendo il dollaro sui mercati quindi il punto è anche questo finora due progetti grandi di Trump non sono passati adesso vediamo l'abolizione dell'Obamacare come e in che modo se verrà fatta perché poi deve ancora passare definitivamente le politiche sull'immigrazione sono state accantonate abbastanza repentinamente e la riforma fiscale di cui ha dato dei cenni una decina di giorni fa è tutta da vedere ancora sia in termini di piano sia in termini di finanziabilità di questo piano e quindi di probabilità che poi il congresso possa approvare una simile rivoluzione fiscale senza massacrarla di emendamenti quindi al di là dell'Obamacare che è venuto fuori in questi ultimi giorni si è assistito a una progressiva perdita di fiducia da parte degli investitori americani sulla capacità di Trump di eseguire il suo programma elettorale ok? io vi ricordo che i mercati americani sono ma anche il bond market ha reagito molto subito dopo le elezioni no? scontando anche questa volta in anticipo gran parte di questo programma no? e quindi sia di abbassamento delle imposte sia di maggiori spese infrastrutturali sia di una deregulation anche nel campo anche nel campo finanziario le ha scontate in anticipo come se dandole quasi per realizzate ok? a metà marzo si è accorta che questo non stava avvenendo no? perché aveva già perso battaglie sui più fronti quindi Wall Street si era fermata no? e il bond market era arretrato in termini di rendimenti perché non aveva più fiducia no? una confidenza come prima che tutto il programma fosse realizzato e quindi questo ha portato ha instillato debolezza nel dollaro per questo parlo di in caso di Bittorio di Macron di maggiori chance per l'euro a livello stabile perché comunque negli Stati Uniti persiste questo dibattito no? su a che punto è l'economia americana il dibattito è acceso perché l'economia americana secondo molti punti di vista direi 50-50 potrebbe entrare in recessione nel giro di 18 mesi no? e lei ha alzato subito la testa perché non è una novità gli Stati Uniti stanno vivendo un ciclo di espansione economica che ormai dal 1970 a oggi ha raggiunto quasi i massimi in termini di estensione ok? stiamo parlando di un ciclo che è nato nel a metà del 99 del 2009 no? o 2009 inoltrato mettiamola come vogliamo no? quindi stiamo già parlando di quasi nove anni di crescita perché il tempo vola dalla crisi sono già passati loro ne sono usciti per primi sono passati nove anni ora il ciclo massimo che è quello culminato con la bolla del 2000 quindi quello nato nel 91 e morto nel 2001 e conclusosi nel 2001 le torri gemelle è stato un evento che comunque ha dato un input che stava già avvenendo quello è stato il ciclo più lungo della storia americana ed è durato dieci anni quindi noi gli Stati Uniti sono molto vicini a quel termine un ciclo economico non si può protrarre all'infinito perché ogni recessione fa bene e vi ricordo che negli Stati Uniti le recessioni mediamente durano un anno non sono molto molto lunghe come in altri paesi perché ci danno dentro nelle recessioni nel senso buttano dentro tutto quello che hanno perché il popolo americano deve continuare a spendere se non spende non genera pill deve continuare a indebitarsi e se non ha i redditi sono precari non si indebita non possono permettersi quasi come la Cina non possono permettersi che i consumi si abbassino sarebbe tragico quindi gli Stati Uniti mediamente durano un anno le contrazioni dell'economia il punto è che questa volta la Fed ha le armi un po' scariche nel senso parte da tassi che sono bassissimi l'1% è il costo del denaro può tornare a zero non ha molto spazio di manovra e anche a livello di politica fiscale lo spazio di manovra è ridotto sono al 101% del debito pubblico in questo momento gli Stati Uniti non hanno capacità di poter espandere la spesa pubblica per contrastare una recessione in modo significativo quindi la situazione non è rosea e tutti si stanno domandando se la rivoluzione di Trump in termini di fisco più che altro non sia l'unica via per poter dribblare la recessione la risposta cioè se per assurdo fosse stata eletta Hillary sarebbe continuata la politica no? di quel tipo e sarebbe stato matematico vedere gli Stati Uniti in recessione gli utili erano già in rallentamento come tasso di crescita gli utili aziendali no? Trump ha dato un'opportunità in più facciamo questo piano fiscale e il congresso sta pensando questo è l'unico modo per poter evitare una recessione no? perché altrimenti è fisiologica durante la recessione le imprese guadagnano competitività perché durante le recessioni si licenza delle persone si contraggono i margini quindi si cerca di ottimizzare i costi è un beneficio per la produttività no? e per la competitività in genere muoiono le aziende che sono meno efficaci nelle recessioni ok? sono indispensabili le recessioni poi più corte sono meglio è un anno sono quelle degli Stati Uniti e il punto è che la politica fiscale di Trump potrebbe essere in grado solo di attenuare la recessione ma non di eliminarla no? questa questa ipotesi quindi ed è per questo che tutti i maggiori uffici studi stimano un tasso di disoccupazione degli Stati Uniti che nel 2017 e nel 2018 sarà grosso modo uguale a quello attuale 4,5 4,3 e anche qui perché? perché gli Stati Uniti sono sul livello di piena occupazione nel boom del 2000 gli Stati Uniti avevano una disoccupazione del 4% dopo 10 anni il ciclo più lungo della storia di crescita economica ora la disoccupazione è al 4,5% cioè ci siamo no? se voi guardate la disoccupazione mi sembra di averla pubblicata la settimana scorsa il grafico della disoccupazione USA vedete riuscite proprio a scandire i cicli i cicli dell'economia sono netti no? e il termine è arrivato praticamente salvo nuovo impulso alla domanda interna tramite le politiche fiscali di Trump ecco per rispondere perché il dollaro ha questa intrinseca debolezza da un po' di tempo a questa parte perché da metà marzo progressivamente il mercato americano ha non dico perso però ha diminuito via via la confidenza che Trump possa portare a questo cioè a dribblare una recessione economica no? e adesso il piano fiscale è stato presentato presentato non è stato neanche presentato non è stato abbozzato per grandi linee e deve essere ancora definito in tutti i punti prima di essere portato al congresso probabilmente entro l'estate no? da questo dipenderanno dipenderà l'andamento degli Stati Uniti nel giro dei prossimi due anni no? perché in un'economia globale come quella di oggi una recessione negli Stati Uniti si riflette immediatamente sull'economia mondiale il problema è che si riflette in modo amplificato no? e negli altri paesi dura più a lungo perché gli Stati Uniti sono un po' rodati no? nell'affrontare questo tipo di recessioni se voi guardate le statistiche è impressionante nessuna recessione dura più di 15 mesi no? impressionante proprio e in Italia sappiamo che è diverso in Francia cioè è un altro mondo no? in pratica anche se questa volta ripeto la Fed ha le armi piuttosto scariche non completamente ma piuttosto e le finanze pubbliche idem no? quindi quello che preoccupa di più è più che altro questo quindi sì il congresso farà molta attenzione a valutare i benefici fiscali di Trump quanto costa in termini di finanziamento il progetto di Trump e se è realmente in grado di per la prima volta nella storia di dribblare una recessione questi sono le tre punti chiave che il congresso avrà in mano no? un secondo che prima c'è la nostra domanda io le do questo così almeno grazie puramente in termini di flussi sul dollaro il congresso ha provato il congresso ha provato un rilanzamento del ceiling di un triliardo di dollari fino a fine settembre la Fed ha detto che diminuisce il bilancio i sauditi disinvestono i cinesi pure largo circa in America hanno bisogno di attirare probabilmente vicino a un triliardo e mezzo di dollari di qui a settembre allora due domande la prima è questa necessità di attirare i flussi sul dollaro può avere un influsso sui tassi la seconda domanda è quanto di questi flussi secondo lei può venire non dal dollaro quindi rappresentare una domanda verso il dollaro e poi alla fine dov'è che si possa eventualmente trovare questi dati cioè quanto è domanda interna sui bond americani o quanto invece arriva da fuori perché questo potrebbe avere un influsso sul tasso di cambio sì allora una premessa gli Stati Uniti non hanno mai trovato difficoltà nel finanziare il proprio debito pubblico bisogna partire da questo nell'ambito della storia moderna non beh d'altronde i cinesi ne detengono una gran parte direi che tutto il mondo detiene una parte del debito pubblico americano perché gli Stati Uniti erano e sono e rimangono e rimarranno la locomotiva mondiale dell'economia no? è l'economia più grande quindi ed è quella più avanzata a livello di competitività non avranno grossi problemi a continuare a finanziare sia provvisoriamente che in che in via più stabile il loro il loro bilancio perché alla fine lì si va a parare no? perché come posso dire le disponibilità finanziarie a livello mondiale sono sono definite no? possono crescere per l'espansione monetaria da parte delle varie banche centrali però a un certo punto devono trovare sbocco in una forma di investimento di impiego no? che siano impieghi più redditizi più remunerativi o meno remunerativi come lo sono gli Stati Uniti una forma di di impiego la devono trovare no? quindi diciamo che eh se gli Stati Uniti salgono in termini di di stock di debito pubblico no? trover anche gli altri gli altri investitori in bond americani no? saliranno nella stessa proporzione mantenendo più o meno invariate le loro quote questo nella media no? perché diciamo che è sempre successo così ehm avendo uno stock mondiale di risorse finanziarie no? c'è una ripartizione a benchmark e quindi o sovrappesato o sottopesate per cui quando aumentano gli stock di debito pubblico aumenta anche la ripartizione cioè le quote di questo remecato rimangono invariate in termini di emissione e in termini di sottoscrizione è un po' eh difficile da inquadrare detta così su due piedi però non hanno mai trovato problemi nel farlo no? ehm quindi questo non inciderà tanto sulla politica dei tassi di interesse la politica dei tassi di interesse degli Stati Uniti è dominata e sarà dominata nei prossimi mesi da queste cose che ci stiamo dicendo ora no? quindi sulla valutazione dello stato dell'economia reale dello stato dell'economia americana voi avete visto che il primo trimestre americano in termini di PIL non è andato molto bene è stato il più basso degli ultimi tre anni no? il primo trimestre primo quarter del 2017 la Fed nel nel meeting che ha appena fatto ha detto beh è un dato passeggero perché storicamente la primavera e l'estate sono quelle che danno maggiore spunto al PIL bene vediamo attendiamo la primavera e l'estate però il dibattito c'è negli Stati Uniti no? l'economia americana è arrivata a un punto che non riesce più a crescere perché non riesce più a trovare ci vuole è arrivato il momento di una pausa quindi servirà valutazione del piano fiscale no? e assieme a questo impatti di politica monetaria no? perché nell'ambito della politica economica sono due le leve la politica monetaria e la politica fiscale politica fiscale è decisa da Trump e dal congresso ok? Fed poi si adegua in termini di politica dei tassi di interesse l'interesse della Fed è quello di farli crescere il più velocemente possibile in teoria perché per affrontare una recessione se io parto da un livello alto poi posso abbassarli se non ci arrivo a un livello più io sto basso ora e meno riuscirò a intervenire in caso di recessione meno spazio avrò di ribasso successivamente quindi la Fed può essere solo contenta di un piano aggressivo di politica fiscale in questo momento perché gli dà modo di avanzare quei tassi in misura più veloce se questo fosse vero allora il dollaro potrebbe avere ancora spazi di rafforzamento il mercato dà per scontato un rialzo a giugno è certo il 14 giugno di 25 punti base e un nuovo rialzo tra settembre e dicembre questo è esattamente ciò che sconta il mercato il rialzo di giugno è dato al 97,5% di probabilità quindi diciamo che la Fed inizia a pensare di agire sopra il 50% di probabilità perché significa che il mercato la maggioranza degli attori del mercato hanno già scontato nei prezzi un rialzo dei tassi quando la probabilità è superare al 50% in questo caso siamo al 97% quindi è dato per aggiungere è dato per scontato quindi prima di arrivare a 1,12 potrebbe anche ritracciare 1,6 1,7 il dollaro cioè l'euro che scende rispetto al dollaro in caso di Vittorio di Macron dobbiamo riacganciarci anche a quello è già scontato in questi prezzi c'è già il rialzo per cui è un non evento quello di giugno scontato significa che è già nei prezzi quindi così come è accaduto a marzo e ci eravamo visti qui pochi giorni prima i mercati non reagiranno perché è già scontato nei prezzi quindi è già dentro quindi l'euro il dollaro il cambio euro dollaro non reagirà a questo così come non reagirà ad oggi a un rialzo un nuovo rialzo tra settembre e dicembre se invece ce ne dovesse essere un altro di rialzo quindi uno a settembre e uno a dicembre quindi altri tre anziché altri due allora sì perché non è nei prezzi e il dollaro reagisce rafforzandosi ok quindi se fosse se ci fosse un rialzo in più quindi non ad oggi due ma tre allora reagirebbero sia le commodity e quindi l'oro proseguirebbe la correzione che ha intrapreso da un paio di settimane reagirebbero i mercati obbligazionari reagirebbero i mercati azionari blandamente perché in questo momento sono guidati più da altre motivazioni e reagirebbe il dollaro ovviamente però ci sono due grossi driver che incidono l'Europa e la Cina anche quindi dobbiamo tenere conto anche di quello che succede in questi due sotto allora in termini di Europa voi sapete sapete meglio di me che l'Europa è avviata su un sentiero carino nel senso di strada di crescita di recupero però parlare di Europa o meglio di Eurozona ha poco senso perché la Germania è sul livello di piena occupazione Francia e Italia no è doppia la disoccupazione per cui c'è un output gap che è notevole tra questi paesi quindi parlando ad esempio dell'Italia anche i dati che arrivano sono incoraggianti molti uffici studici danno in forte crescita a livello di utili aziendali in quest'anno io ho visto circolare report di grosse case che danno un tasso di crescita utili nel 2017 del 22% per quanto riguarda l'Italia per la Germania è l'8% il tasso di crescita del 2007 degli utili da questo capite che il mercato italiano a piazza affari ha delle opportunità di investimento di ampio respiro ma senza arrivare in campagna elettorale cioè nel momento in cui se l'elezione dovesse essere ad aprile dell'anno prossimo a gennaio ok tutti a casa ci vediamo dopo le elezioni nel senso tutti a casa i mercati si fermano a quel punto perché l'evento elettorale italiano è non posso dire l'evento del secolo ma sicuramente sì l'esito e quindi l'attesa sarà veramente non dirompente ma notevole ci sarà una volatilità doppia rispetto a quella che abbiamo sperimentato con la Francia mi ritengo un esperto proprio di titoli azionari italiani perché quello guardo lì mi sono specializzato ovviamente mi sono accorto aspettando la Brexit che il calo in borsa italiana già c'era stato perché si attendeva si attendeva quel momento lì poi c'è stato diciamo la chiusura degli short immediatamente prima e poi è successo quello che è successo ovviamente una cosa così uno che sta sul pezzo la capisce riesce a percepire tutto quello che ci sta dietro e sono d'accordissimo con te che molto probabilmente da gennaio dell'anno prossimo avverrà la stessa cosa per dopo esplodere o verso il basso o verso l'alto di nuovo è ovvio io infatti l'unica strada che vedo scusami sono d'accordo anche con te per il discorso degli utili perché io appunto guardando i vari bre i vari tenaris che non so neanche o meglio è venuto un trimestrale della madonna il titolo da allora è crollato e l'ho presa nei denti anch'io e non mi vergogno a dirtelo perché ci sta nel senso che ovviamente ovviamente però quello che volevo volevo dirti è che sostanzialmente sono d'accordo anche con te che gli utili trimestrali sono veramente importanti quest'anno perché proprio sono venuti fuori tutti e ti assicuro i vari Ferrari i vari ovviamente uno su dieci ti saccagna ma l'importante è che vanno bene gli altri nove è normale confermo quello che stai dicendo se stai su uno rischi di farti male se stai su dieci la diversificazione poi ti premia sempre è ovvio e poi comunque ci sono dei titoli un po' io li chiamo un po' bastardi tipo un mediolanum un mediolanum ha lo stesso vizio trimestrali sempre della madonna il giorno dei trimestrali quando vengono fuori tu ti aspetti che il titolo salga ma io già lo so e quello lì non mi frega più e per dire però per questo per per diciamo ribadire comunque la tua falsariga che secondo me è corretta è corretta così se ti se ti può gratificare è normale no assolutamente nel senso sto parlando di borse italiane io ti dico io non mi ritengo un esperto di altre di altre borse perché io su quella mi sono specializzato tu chiedimi tutto sul MIB io ti so dire vita morte miracoli su ogni singolo titolo e il carattere che c'ha quel titolo lì no ma infatti a mia volta perché se su Exor tu compri sulla media mobile a 20 e a 50 tu da 6 mesi che non puoi che andare bene stessa cosa su ogni titolo ha il suo indicatore in questo momento e lo sta rispettando ampiamente per quello che ti dico ultimamente tradare non è poi così difficile anche gli stop non li prendi praticamente mai te lo dico perché e Brembo la comprereste è Interpump a questi io Brembo ti dico solo che Brembo Race Exor Interpump guarda c'ho anche il mio collega che l'ho appena fatto guadagnare ti può anche garantire garantire che io ho fatto fare il 10% in un mese su un mini un mini diciamo portafoglio dato che era scettico io ho detto guarda te lo pago io non ti preoccupare ma ero proprio tranquillo adesso ovviamente mi deve una cena è il minimo per chiarire nell'intervento che ho fatto prima parlando dell'Italia qua tutti noi sottovalutiamo a mio avviso noi sottovalutiamo a mio avviso il grosso punto di debolezza che noi abbiamo che è la palude politica che abbiamo in Italia questa non occorre che vi dica che vi convinca che ha delle influenze notevoli sul piano italiano delle borse e quant'altro e anche direi un pochettino a livello europeo e un concluso allora praticamente è verissimo la palude politica zavorra un po' non solo la borsa italiana ma anche l'economia italiana e quindi l'occupazione e via dicendo però proprio questa palude politica per riagganciarmi a quello che dicevamo prima sarà il motivo principale della fortissima volatilità che coinvolgerà i mercati da gennaio febbraio cioè da due mesi prima delle elezioni italiane fino all'esito delle elezioni italiane no? perché questa palude politica è pericolosissima perché è lì che l'euroscetticismo anche giustamente in alcuni casi no? giustamente dal punto di vista di chi lo propone attecchisce meglio no? quindi noi avremmo uno scontro forte tra i partiti euroscettici no? e quindi che sono nel 5 Stelle e nella Lega rispetto agli altri partiti classici e non direi classici perché non ce ne abbiamo di non classici come la Francia da qui ci sarà una fortissima volatilità quindi elezioni di Macron sta lì un pochettino poi l'upside c'è per Piazza Affari trainata dalle banche salvo buon fine delle procedure con Bruxelles per il finanziamento pubblico delle banche venete di Montepaschi ovviamente altrimenti l'unica soluzione sarebbe Beilin ma non voglio pensare a questo scenario e quindi elezioni tedesche in Germania a settembre insomma niente 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 di particolare quindi diciamo fino a dicembre c'è spazio per una positività di fondo del mercato no? dopo è tutt'altra cosa fermo restando di vedere la BCE sì e no nel senso la BCE non rialzerebbe mai i tassi prima della fine del quantitative easing no? l'ha detto e in genere una banca centrale non si rimangia le proprie parole a parte la banca svizzera e quindi il QE va avanti sicuramente fino a fine anno il dibattito sarà sulla diminuzione o meno del QE ma non vogliamo ancora pensare a un'uscita quindi a un tapering cioè a un ridimensionamento del bilancio della banca centrale significa vendere i titoli che ha acquistato quello non se ne parlerà prima di anni la stessa Fed continua la stessa Gran Bretagna continuano a mantenere in portafolli facendo più in realtà quantità di easing continuano a mantenere in portafollo gli asset che hanno i bond che hanno acquistato durante le fasi di quantità ma attenzione spesso come la Gran Bretagna rinvestendo gli utili o i titoli in scadenza una fase naturale di tapering per una banca centrale è quando i titoli vanno in scadenza da lì inizia vengono rimborsati e quindi inizia la riduzione del bilancio dell'espansione del bilancio la Gran Bretagna no ma anche la BCE cioè continua a rinvestire sia i titoli in scadenza sia le cedole dei titoli che ha in portafoglio quindi mantenendo il livello alto quindi la BCE arrivo la BCE non rappresenta un problema fino a fine anno o perlomeno un punto da monitorare certo sono sempre importanti i meeting perché vanno tenuti estremamente d'occhio per il sentiment dopo Draghi sarà un altro film la Fed va tenuta in portafoglio gli Stati Uniti invece costituiscono un importante punto di osservazione da monitorare da vicino proprio per i motivi che ci siamo detti sia in termini di Federal Reserve ma sia in termini proprio di dove andrà a parare in termini di fiscalità e altro cioè le quotazioni di Wall Street non sono tiratissime ma non sono cheap il PE l'abbiamo visto non è a livello del 2000 certo però 22 di PE per quanto riguarda l'S&P 500 quindi il Nasdaq è più alto bisogna fare attenzione su questi livelli di prezzo perché quando mancano quando mancano le basi il ritracciamento poi è anche veloce quindi sugli Stati Uniti continuiamo a mantenere un focus importante e approfondiremo anche sul giornale queste tematiche c'era una domanda sì sì buongiorno buongiorno chiedevo questo proprio relativamente al QE il fatto di uno scongiurare chiamiamolo il pericolo Francia quindi una vincita di Macron data per certa ipotizziamo che sia certa non potrebbe portare un Draghi invece ad anticipare la riduzione del QE e quindi di conseguenza andare a rafforzare ulteriormente l'euro direi di no perché Draghi ha escluso che il QE possa essere modificato a ribasso prima della fine dell'anno non ha escluso che possa essere modificato a rialzo quindi espandere gli acquisti o prolungarlo ulteriormente ma ha escluso riduzioni questo livello di 60 miliardi a mese va avanti fino alla fine dell'anno e non pensa che può averlo fatto per rafforzare invece il mercato proprio in questa situazione di instabilità no perché una banca centrale conta per le azioni che fa ma soprattutto per le intenzioni che manifesta quindi l'attendibilità di una banca centrale si basa soprattutto sulla capacità di comunicazione col mercato lasciare intendere quello che vuol fare quando la banca svizzera ha rotto la banda di mantenimento del franco svizzero ha perso credibilità perdere credibilità da parte nei confronti degli operatori certamente significa tagliarsi una gamba tu hai due gambe una è quella con cui agisci e l'altra è quella con cui anticipi al mercato quello che vuoi fare di modo che te che abbia tempo di organizzarsi per tempo organizzarsi significa scontare nei prezzi gradualmente la tua mossa se tu agisci all'improvviso arrivo se tu agisci all'improvviso come banca centrale o smentisci ciò che hai detto no cosa succede che il mercato se smentisci deve fare marcia indietro il mercato non è bello che già ha le sue gatte da pelare se agisci di colpo il mercato è impreparato e quindi si scarica in quel momento nel giro di due ore e scarica tutta tutta la conseguenza sui prezzi e anche questo non va bene nessuno vuole volatilità sui mercati le banche centrali ciò che temono di più è la volatilità perché le banche centrali controllano soprattutto il rischio la volatilità significa rischio quindi un maggiore rischio soprattutto sul mercato dei cambi significa maggiori stanzialmente da parte delle imprese incapacità di fare dei listini consistenti e competitivi da parte delle imprese produttrici e altri accantonamenti da parte delle banche questo non deve avvenire quindi la risposta è no non potrà apportare variazioni al ribasso del QE prima della fine dell'anno esempio è stato quando Draghi ha detto farò tutto quello che serve per l'euro e vi garantisco che sarà più che abbastanza è stato una cosa che si quello di fatto ci sono tutti i suoi si Gianluca vi può confermare che uno dei voti del trader è non combattere contro la banca centrale no? perché ovviamente ma parlo anche dei grossi broker perché la banca centrale ha munizioni infinite sta un po' scusa ti faccio una domanda perché io questa cosa qua ti dico la verità non l'ho capita e quando non capisco una cosa ho l'abitudine di chiederla allora noi ci ritroviamo in questa situazione dell'euro perché è stata una volontà di Draghi cioè non ci dimentichiamo che la svalutazione dell'euro era una volontà di Draghi per aumentare l'esportazione europea verso l'America perché ormai l'euro troppo forte svantaggiava diciamo le esportazioni ok adesso vedi proprio io per le cose che non so parlo come un bimbo ma non ho problemi io adesso non capisco il perché dopo tutto quello che si è fatto per svalutare l'euro e che secondo me è più è più conveniente secondo se seguiamo sempre la stessa logica perché ci dovrebbero essere politiche per poi di nuovo rafforzarlo soprattutto considerando il fatto e mi aggancio a quello che hai detto tu e sono d'accordo perché le recessioni arrivano perché i cicli ci sono perché i flussi chi deve prendere il reddito deve prendere il reddito e servono proprio per tutto proprio perché se l'America va di nuovo verso la recessione e si indebolirà ritorniamo di nuovo appunto di partenza e abbiamo fatto tre anni per farlo calare sostanzialmente per poi farlo risalire ecco io questa cosa qui sinceramente non non lo non l'ho capita hai capito allora diciamo che da un po' di tempo da un po' di tempo è palese la lotta delle valute da parte dei vari stati nel senso più una valuta è debole più aumentano le capacità di esportazione di un paese ma non solo di esportazione di beni e prodotti di esportazione della disoccupazione anche e soprattutto quindi è sempre bello crescere a spese degli altri fondamentalmente quindi io ho più occupati ti becchi i miei prodotti e poi cavoli tuoi la guerra delle valute c'è c'è da molto tempo non è una novità ce lo insegna anche la Cina con le continue valutazioni che fa sorpresa pur avendo un costo delle risorse umane che risenta ridicolo ma anche il Giappone voi vedete quanto sia sensibile il Nikkei alle variazioni del cambio dollaro yen è sensibilissimo voi vedete come è sensibile il DAX alle variazioni del cambio euro-dollaro il DAX è fatto di 30 titoli del DAX da imprese industriali soprattutto e di servizi e quindi il DAX è sensibilissimo come il piazza affare è sensibilissimo allo spread BTP Bund perché la maggior parte non è vero neanche la maggior parte il 25% sono titoli finanziari in termini di peso sul Fuzzimib poi ha anche suo bel gran peso Eni e Enel e le utility le altre utility quindi la guerra delle valute c'è sempre stata non è nell'interesse dell'Europa rafforzare l'euro in questo momento no? non è nell'interesse perché perché ovviamente perderebbero parte delle esportazioni ma soprattutto non è nell'interesse della Germania più che dell'Europa avere un euro in rafforzamento perché è la Germania il principale paese esportatore al di fuori dell'area euro no? quindi la risposta è no non si vuole a livello politico un euro più forte non si vuole non lo vuole soprattutto la Germania no? a me è piaciuta molto una frase di Le Pen quando ha detto in ogni caso lunedì la Francia sarà guidata da una donna no? e quindi non lo vuole la Germania che un euro più forte e quindi la Bundesbank pardon la BCE è sottoposta a notevole pressioni anche sotto questo punto sotto questo punto di vista quindi è un po' il gioco dell'equilibrismo ma è questo il motivo per cui sicuramente il QE non può diminuire prima della fine dell'anno tantomeno pensare a un'uscita dalla politica così espansiva e i tassi di interesse non possono allora in realtà i tassi di interesse dovrebbero crescere no? perché? perché così le verrebbero un po' di patate bollenti dai bilanci delle banche no? perché voi sapete che con tassi così bassi le banche non riescono ad avere una redditività opportuna no? paragonabile a quella UK a quella americana a quella giapponese il problema dei tassi quindi sui tassi posso capire che si cercherà di uscire più presto da una politica al più presto da una politica di tassi negativi no? però è anche vero io poi sto alle parole di Draghi no? non inizieremo un percorso di normalizzazione dei tassi finché il QE sarà in atto no? e quindi prendo per buono questo a un certo punto non dobbiamo farci troppi problemi un banchiere centrale ha detto una cosa bene fino a prova contraria la rispettiamo come la rispettano tutti i mercati non dispendiamo energie focalizziamoci invece sulle questioni più importanti io ritengo che l'euro abbia spazio al massimo fino a 1,13 1,15 ma esagerando che sono i picchi che ha fatto nell'ultimo anno no? dopodiché forze opposte appunto lo faranno indietro cioè l'equilibrismo è anche con gli Stati Uniti no? la nuova presidenza Trump è abbastanza protezionistica non le confronte della domanda interna però allo stesso tempo vuole esportare no? botte vuota piena della moglie ubriaca e quindi l'equilibrismo è anche quello no? io penso che intorno a 1,10 sia un punto di equilibrio sostenibile sia per l'economia americana sia per l'eurozona no? alcuni la vedono intorno a 1,12 nel 2018 il cambio quindi diciamo 1,10 la vedo una zona opportuna no? come come punto centrale di oscillazione prego se volete a proposito di que la domanda è incompetente no prego a proposito di que da quello che leggevo la BCE presta i soldi alle singole banche centrali quindi anche la banca Italia e quindi il tutto di Stato il QE avviene con contabilizzazione del prezzo di acquisto a carico di Banca Italia si leggevo che alcuni opinionisti operatori sono preoccupati dell'equilibrio di Target 2 dove stiamo accumulando un un deficit a livello di Target 2 e quindi mi chiedevo se nonostante il QE questa pressione del Target 2 che è il debito della Banca d'Italia verso l'eurosistema si alza sempre di più e non potrebbe portare a un certo punto a un'esplosione a un aumento del nostro spread nonostante il QE che continua non so se mi sono spiegato grazie sì 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 no questo va meglio però allora diciamo che è un tecnicismo voluto da Banca Italia da Banca dalla BCE il fatto che che poi è anche normale pensando alla mentalità tedesca no? che è quella che domina nell'area euro allora la BCE ha detto facciamo il QE e io vi ricordo la lotta che è stata fatta no? cioè non è stato facile per Draghi far accettare alla Bundesbank il fatto che si facesse un QE no? per cui si sono acerbellati molto su come poter sostenere a livello politico e a livello finanziario un'azione di questo tipo e quindi la decisione ma anche giustamente è stata quella che il QE lo determina le dosi l'importo del QE lo determina la BCE la banca centrale no? sulla base di considerazioni tutte sue no? fondamentalmente sia di estensione temporale che di importi dopodiché i singoli acquisti o meglio gli acquisti all'interno dei vari mercati vengono fatti dalle rispettive banche centrali dei paesi dove risiedono questi mercati per intenderci quando la BCE dice ha acquistato 3 miliardi di BTP italiani non li ha acquistati la BCE li ha acquistati Banca Italia no? i 3 miliardi finanziati dalla BCE e questo entrano nei bilanci e questo entra nel bilancio va ad espandere il bilancio di Banca Italia ok? quindi Banca Italia si trova titoli da una parte no? e conto finanziato e debito dall'altra perché è stata finanziata questa operazione dalla BCE quindi in realtà il suo bilancio è pari Banca Italia non sta espandendo il suo bilancio no? in realtà lo sta espandendo la BCE il bilancio però i titoli la rischiosità dei titoli dell'operazione è in capo a Banca Italia per dire se il BTP passa da 105 che quota oggi a 35 perché perché facciamo la fine della Grecia poniamo per assurdo no? allora questa minusvalenza di 70 basis point se la becca Banca Italia no? è in capo a Banca Italia perché così ha voluto la Germania cioè ogni paese si accolla ai rischi degli acquisti del proprio debito se invece i titoli fossero nel bilancio BCE questi rischi sarebbero in capo alla BCE scusi solo una nota la net settlement exposure la net settlement exposure all'interno di Target 2 è derivata da ben altro perché adesso siamo a meno 300-350 miliardi quindi l'aspetto del QI incide ma voglio dire una cosa marginale la net settlement exposure in Target 2 deriva da tutto l'insieme dei flussi di qualsiasi natura commerciale quindi diciamo sono due cose separate no è sempre lì prima di concludere faccio lo scenario avverso cioè quello di nel caso di vittoria di Le Pen sarò brevissimo caso di vittoria di Le Pen direi che è abbastanza semplice per i primi giorni i mercati ritracciano immediatamente ritorno ai livelli esattamente dal 20 al 23 aprile no cioè da quando è partito uno il fatto di scontare in modo significativo nei prezzi la vittoria la vittoria di Macron no quindi significa intorno a 1,7 per il dollaro e significa 19 mila e poco sotto 20 mila per il Futsimib dove tra l'altro lì c'è un gap rialzista da richiudere no quello che è stato lasciato aperto nella giornata del 24 aprile se non erro è un gap molto ampio questo nel brevissimo poi non escludendo il fatto che l'onda emotiva porti gli indici e anche la valuta a valori ancora più bassi quindi parliamo dei minimi fondamentalmente dei minimi dell'anno no sia per quanto riguarda l'euro nei confronti del dollaro e sia per quanto riguarda il mercato azionario piazza affari più delicato sarebbe lo spread BTP Bund perché volerebbe volerebbe perché a quel punto anche il risultato elettorale che ci sarà in Italia sarebbe molto condizionato da dall'accadimento francese anche perché poi l'EPEN governerebbe governerebbe presiderebbe la Francia fino a avremo un un EPEN per otto mesi circa prima di arrivare alle nostre elezioni no che potrebbe insomma fare pendere l'ago della bilancia notevole molto a favore dell'euro scetticismo anche in Italia quindi lo spread BTP andrà sotto pressione senz'altro potrebbe arrivare fino a 300 basis point e da qui le banche saranno una zavorra sarebbero una zavorra non indifferente sul nostro mercato anche se in realtà la cosa potrebbe essere non così catastrofistica senz'altro non è la Brexit la Brexit non era nella nella moneta unica cioè la Gran Italia non è nella moneta unica e si tratta dell'uscita dall'Unione Europea in questo caso ciò che Le Pen proporrebbe ma che in realtà non è proponibile è o un'uscita dalla Francia dalla moneta unica o meglio come l'ha spiegato nel dibattito un affiancamento del franco francese alla moneta unica per pagar bene non si sa che cosa quindi tutto ciò però non si può fare in primo luogo perché occorre un referendum in Francia occorrerebbe un referendum in secondo luogo perché il referendum deve essere indetto dalle camere e lì potrebbe vincere la presidenza la corsa all'eliseo ma trovare la maggioranza o anche delle semplici alleanze al Parlamento per poter far passare una proposta di referendum in questo senso è praticamente impossibile quindi alla prima botta finale dei mercati di 1, 2, 3, 4 giorni insomma della settimana prossima non si può escludere che poi invece subentrino altri tipi di considerazioni ok sì ma in realtà in realtà in realtà ti faccio una domanda secondo te è più pro ciclico pro economico un Macron o un Le Pen per l'economia francese cioè stimolerebbe di più l'economia francese Macron o Le Pen in termini programmi cioè in realtà Le Pen è in grado di stimolare molto di più l'economia francese ma molto cioè Macron va bene lo vogliono i mercati ok è finanza pura ok è un ex Rothschild ok assoluto 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 sono veramente difficili da reperire in un'ottica di quantità di leasing no perché ovviamente la Germania ha detto no il QE tu non lo fai sulla base del debito pubblico troppo comodo perché così finanziamo l'Italia e basta no in proporzione lo fai lo fai sul più in proporzione al PIL no ovvero in proporzione al contributo che dà ciascun paese alla BCE ogni paese paga esatto lui va in Indonesia no assolutamente sì cioè sarebbe sarebbe critica la situazione ma non tanto per la Francia no quello che intendevo dire perché in realtà Marine Le Pen è in grado di stimolare l'economia francese molto di più di quanto non lo possa fare Macron cioè Macron è un come posso dire non un europeista è un ultra europeista no quindi nell'aspetto fiscale nell'aspetto finanziario non ha le e non c'è neanche nel programma un modo preciso per poter espandere l'economia francese ma in tempi non biblici no quindi far aumentare la competitività ma è veramente arduo per Macron tant'è vero che i mercati poi scontano una crescita francese addirittura inferiore rispetto a quella italiana perché non ha le armi non ha neanche il DNA ma non ha neppure le conoscenze cioè in base agli accordi pre-elettorali che lui ha fatto perché li ha fatti no non è in grado di stimolare l'economia più di tanto cioè in grado di tenerla sui binari di adesso e questa è la grande la grande preoccupazione però è una preoccupazione interna alla Francia nell'ambito della finanza internazionale ok le pene invece è quindi casomai possono soffrire le valutazioni che hanno i broker sulla Francia ma non sull'Italia no caso Macron e l'euro in qualche modo non dico che è salvo perché è brutto però si è elevato si è rimosso un ostacolo no alla alla sua alla fiducia sui mercati invece le pen è in grado di stimolarlo molto di più il mercato però avrebbe un impatto il mercato francese ma avrebbe un impatto esterno assolutamente importante soprattutto nei confronti nei confronti dell'Italia no per questo dico che comunque una vittoria di le pen potrebbe impattare violentemente sui mercati nei primi nei primi giorni mercati azionari no dopodiché stabilizzarsi per l'Italia invece sarebbe un piccolo dramma sarebbe un piccolo dramma perché lo spread crescerebbe molto e le banche continuerebbero a zavorare molto la piazza italiana no cioè paradossalmente la piazza tedesca potrebbe uscirne quasi indenne no perché per tutta una serie di motivi e non ultimo il forte indebolimento dell'euro che stimola le esportazioni l'abbiamo visto con la Gran Bretagna no quindi a quel punto si aprono degli scenari veramente non dico complessi però vari che sono da analizzare nel dettaglio no quindi sicuramente in caso di Vittoria di Le Pen non sarei estremamente negativo sul CAC 40 no sarei forse quasi anche positivo sul DAX sarei estremamente negativo sul mercato italiano ecco no come come quadro che poi è quello che è il ragionamento che si potrebbe fare una volta scaricato il sentiment no dei tre o quattro giorni che seguono che seguirebbero a un evento di questo tipo per quanto a spanne se guardate US Death Clock Org la percentuale di debito complessivo la percentuale di debito complessivo francese pubblico e privato rispetto al PIL detenuto da non francesi al 200% rispetto al PIL francese quella italiana al 110 quindi attenzione a vedere l'insieme anche delle posizioni di non investitori nazionali nel debito complessivo dell'economia pubblico e privato assolutamente il messaggio non era era di questo tipo agli eventi in genere bisogna guardare con un occhio distaccato cercando di analizzare prima gli impatti principali in caso di vittoria di Le Pen ci sarebbero degli impatti forti che potrebbero essere però di vario tipo non tutti in un'unica direzione e soprattutto che potrebbero protrarsi per tempi diversi sulle varie piazze o potrebbero addirittura non protrarsi però è importante ragionare in anticipo perché poi si è colti in mezzo a un fast market per cui uno acquista vende sappiamo bene in un fast market come sono gli spread le quantità che ti vanno a colpire rischi di rasare il book fino a certi livelli per cui è bene comunque avere le idee almeno di base chiare prima poi certo subentrano tutta un'altra serie di considerazioni in base a quello che lei ci ha detto prima della curva dei tassi americani che si è appiattita ci sono alcuni analisti che invece sovrastimano l'inflazione le volevo chiedere un parere sovrastimano l'inflazione americana? nel senso che secondo loro le stime dovrebbero essere molto più elevate dell'inflazione USA allora io cioè come facciamo noi a valutare le stime degli operatori grandi o piccoli che siano può essere JP Morgan così come può essere un'altra banca molto più piccola guardiamo al mercato fondamentalmente è lì che si sintetizzano le stime le attese degli operatori per quanto riguarda l'inflazione quindi a maggior ragione degli Stati Uniti che è un'attività scommessa ipergettonata la curva dei rendimenti parla abbastanza chiaro ma poi anche l'inflation link degli Stati Uniti i bond legati all'inflazione cioè una curva di rendimenti di questo tipo vuol dire che sintetizza tese di mercato sull'inflazione che sono più caute rispetto ai dati attuali quella è la sintesi cioè se io prevedessi un'inflazione americana io broker al 3,2% anziché ai valori attuali allora venderei bondo mi metterei short sul tbondo sul tnot cioè comunque attuerei una politica di questo tipo a livello gestionale questo se fosse fatto anche solo dal 50% del mercato procurerebbe già da sé una crescita dei mercati dei rendimenti a medio e lungo termine americani se almeno una parte del mercato facesse questo tipo di considerazioni però non le sta facendo perché la curva dei rendimenti in realtà è più piatta quindi la sintesi espressa nella curva dei rendimenti sulle aspettative di inflazione è quella di un'inflazione su questi valori o addirittura di qualche decimo di punto più bassa e allora ci devono spiegare gli americani come fanno ad ottenere questa magia sei su un livello di piena occupazione praticamente stai per lanciare un piano di fiscale così aggressivo che stimola enormemente la domanda interna ma se sei su un livello di occupazione chi vuoi impiegare cioè qual è il cruccio di Trump cioè se tutti negli stati diritti lavorano dove cavolo vuoi andare a prendere anzi vuoi buttare fuori gli immigrati che stanno lavorando cioè spiegami dove vai a prendere le persone che si occupano di produrre il pillo in più che tu stimi non ha senso se fai così stimoli così fortemente la domanda con un livello di piena occupazione tutta la tua nuova domanda si scarica sull'inflazione non ha vinto le elezioni per l'occupazione per il reddito del ceto medio americano questo è stato il fulcro che ha fatto vincere le elezioni gli americani hanno un reddito minore rispetto a 10 anni fa il ceto medio si è impoverito ma non è tanto questo quello che si ha ragione però l'effetto anche di quello che lei sta dicendo è quello di mettere più denaro in tasca nel ceto medio che il ceto medio è quello che ha il potere di spesa questo significa che tu stimoli la domanda interna però se stimoli la domanda interna ma sono già tutti occupati prevalentemente questo stimolo della domanda interna si riflette in un aumento dell'inflazione è per questo che rifacendomi la domanda di prima ci sono alcune case che dicono l'inflazione di oggi è sottostimata perché sulla base dei dati di oggi dell'occupazione USA è certo che è così tu mi vai stimolare una domanda che è già piena quindi si scarica sull'inflazione ma le considerazioni da fare sono quelle di prima attenzione perché gli Stati Uniti potrebbero essere avviati verso una fase recessiva ok quindi l'espansione contenuta fiscale contenuta nel piano di Trump non farebbe altro che attenuare o tentare di driblare questa fase recessiva o attenuarne tantissimo gli effetti la sottosterebbe molto in avanti probabilmente dipende dal piano ci sono non sappiamo ancora qual è in realtà l'ultima domanda che poi passo la parola a Gianluca che se no mi fucila io già avevo una domanda prima ma è stato utile stare ad ascoltare perché come si fa a sostenere la crescita del PIL americano quando lei dice che già i tassi di occupazione sono a livelli altissimi aumentando la produttività la produttività che gli americani ci hanno insegnato benissimo come si fa cambiando dall'industria di base ad un terziario avanzatissimo dove l'e-commerce e l'economia su internet la fa da padrona anche sul peso di queste società all'interno degli indici azionari americani e allora visto che sono stati sempre abituati a sorprenderci nel meglio perché è un'economia molto avanzata stiamo speculando sul fatto che siano arrivati che la crescita sia arrivata che ci sia una recessione imminente in America quando invece va bene stiamo dicendo che l'aumento dei tassi potrebbe essere più o meno veloce rispetto a quanto ci aspettavamo prima ma non ci scordiamo che l'euro dollaro stava a 1.04 l'anno scorso in una situazione in cui francamente l'America ha continuato a sorprendere e c'è molta più stabilità quindi io non riesco a capire perché dobbiamo pensare che lo scenario di adesso sia tremolante e quindi il dollaro deve deprezzarsi e quindi l'economia americana dovrebbe non lo so attenzione nessuno ha detto che il dollaro debba deprezzarsi siamo in un trend di crescita globale se noi prendiamo un etf ma secondo lei l'economia americana può crescere indefinitamente nel tempo? non lo sto dicendo ma sto dicendo che queste grandi crisi hanno abituato ma anche le politiche di intervento delle banche quale crisi? la crisi che c'è stata la prima crisi del 2001 e anche quella del 2009 stiamo parlando di 10 anni fa quasi si hanno abituato le banche centrali la Fed a politiche di emergenza rapidissime quindi dove anche una crisi si manifesta con un certo livello di violenza minore rispetto al passato quindi stiamo andando verso un mondo di regolarità di gradualità scusi di gradualità allora questo diciamo è bello ciò che dice è il sogno di tutti i governanti avere una crescita eterna costante non eccessiva il target delle banche centrali che cos'è? 2% di inflazione giusto? quella del Giappone quella degli Stati Uniti quella europea quella della Gran Bretagna 2% di inflazione significa dai diamogli un po' di vantaggio al PIL 2,5% di PIL bene tutti i paesi e i governanti metterebbero la firma per avere da qui all'eternità un PIL che cresce del più di 2 2,5 e un'inflazione che cresce del 2% no? la realtà è che allora nessuno dice che il dollaro si debba svalutare stiamo parlando di valori di equilibrio del dollaro di 1,10 che è la quotazione di adesso no? per cui pari a palla al centro per quanto riguarda il cambio quello che si sta dicendo è che neanche gli Stati Uniti entrino domani in recessione stiamo solo dicendo della possibilità ma anche solo a livello statistico che a parte il primo quarter che in realtà va in questo senso è stata la crescita più bassa degli ultimi tre anni quella del primo trimestre del 2007 di quest'anno quindi stiamo parlando della possibilità che gli Stati Uniti si avvino verso una recessione che potrebbe arrivare nell'arco di 18 mesi questa no? questo è lo scenario e lei dice giustamente ma no giusto si può guadagnare in produttività se l'occupazione è ai livelli massimi e infatti è perfetto il problema è che non puoi guadagnare competitività o produttività meglio in una fase molto espansiva perché in una fase molto espansiva tu sei abituato ma non è molto espansivo beh per le aziende tecnologiche sì nel senso sono non è che abbiamo un cesto di domanda per cui le aziende continuano a produrre di più con beneficenza hanno tutto il tempo di investire e di aumentare la produttività sì però sono concentrati sui fatturati soprattutto in questo momento le aziende americane perché hanno lavorato molto sui costi e quindi sui margini nella prima parte di questa ripresa diciamo dall'uscita dal 2009 fino al 2012 2013 sono riusciti ad aumentare gli utili nella prima parte non tanto per l'aumento di fatturato perché loro sono usciti velocemente ma tutto il mondo era ancora un po' con le pezze al sedere economicamente parlando no? forse è tolta un po' l'aria asiatica però l'Europa è stata veramente più impegnata nel far ripartire la domanda interna dopo la botta anche perché dopo la botta sa prime americana è arrivata tutta l'onda delle banche e noi avevamo anche la Grecia da gestire sull'Europa quindi è stata molto più lunga quindi come ha fatto a crescere gli utili nei primi anni negli Stati Uniti? lavorando molto sui costi e quindi a parità di fatturati diciamo abbassando i costi i margini hanno continuato a crescere negli ultimi anni e basta sono concentrati sui fatturati soprattutto perché i costi ormai erano arrivati a livello di di ottimizzazione per cui in termini di competitività o di produttività questo lo riesce a fare meglio durante le fasi recessive perché lì sei obbligato a lavorare per ricercare una maggiore produttività aziendale perché altrimenti chiudi muori non ce la fai ed è per questo che sono molto veloci le recessioni americane anche perché poi entrano sempre degli ammortizzatori fiscali o finanziari che sono molto efficaci però la produttività di solito innanzitutto non riesci ad avere nel giro di pochi mesi devi lavorarci sopra per un po' di tempo ma ci lavori velocemente quando sei un po' con le braghe di tela cioè quando sei in un periodo di calo della domanda allora lì ti concentri di più sugli aspetti produttivi l'ultima domanda perché poi devo veramente lasciare la parola a Gianluca no no volevo solo dire come punto d'attenzione rispetto a quello che dicevo lì guardavi dati l'economia americana è un 10% industria 30% pubblico e 70 servizi chiedo scusa 60 servizi quindi forse bisogna stare attenti a non ragionare in termini di produttività industriale troppo perché è piccola la parte negli Stati Uniti produttività industriale produttività di beni e servizi industriale bene e servizi sì ma lei la produttività ce l'ha anche nei servizi lei ha un fattorato e ha dei costi comunque nel servizio è più facile sì certo certo però non lo fa neanche in due mesi anche nell'industria dei servizi almeno Marchionne credo giriamolo sui servizi grazie mille lascio la parola alla Gianluca e buon proseguimento grazie